Sono entrati con un coltello, è entrato uno con un coltello, un bel coltello, una bella lama, un saramanico. Il rapinatore si è presentato così al bancone della farmacia al Sansovino ieri sera, un paio di minuti prima dell'orario di chiusura. Per il dottor Paolo Penso, titolare dell'esercizio di via Bernini 4 all'angolo di via del Bosco, uno shock mai provato prima. È entrato da quella porta, io ero dietro e mio nipote che era qui è venuto dietro dicendo che c'è una rapina, c'è una rapina. Io così non ho visto nessuno, pensavo che non ci fosse niente. Invece poi il tizio è venuto dietro il banco, lì alla cassa, ha preso, ha votato la cassa, ci ha detto state fermi, non vi faccio niente, state fermi lì. Siamo rimasti lì dietro, ha preso quello che c'era in cassa, il volto con un passamontagna, completamente coperto, con degli occhiali, per cui non si vedeva né il colore della pelle, assolutamente impossibile poter individuare la persona. Sul posto polizia e carabinieri per le indagini di rito. Ovviamente si farà ricorso alla videosorveglianza, ma più che la telecamera interna, visto il travisamento del volto, potrebbe essere più utile quella all'esterno, tra le due gallerie, per individuare spostamenti e eventuali complici. Si tratta della quinta rapina negli ultimi due mesi a Trieste, già colpite quelle di via Brunner, via San Marco e via Giulia e la parafarmacia di strada di fiume. Episodi che, sommati a quelli degli ultimi anni, avevano fatto lanciare un allarme al presidente dell'ordine dei farmacisti in Ostrano, preoccupazione rinnovata oggi dal dottor Penso. Come categoria siamo un po' sotto attacco, non so perché, anche perché qui di incassi non ce ne sono, non è che siano grandi cifre, noi incassiamo molto col posto e molto con la mutua, per cui non è che si faccia grandi cassetti, per cui non lo so, non so se siete dietro qualche organizzazione o qualche vice qualcuno.